Noi abbiamo fatto una lunga disamina della situazione dell'ordine della sicurezza pubblica nel nostro Paese. Naturalmente queste sono le statistiche ed è chiaro che il lavoro che noi facciamo quotidianamente è quello di avvicinare le statistiche al sentimento dell'opione pubblica. Non uso nemmeno il termine della sicurezza percepita che a mio avviso appare un termine non sufficientemente chiaro per rendere l'idea invece del sentimento. Le politiche di sicurezza si misurano con i sentimenti di un Paese e quindi oltre alle statistiche ci sono poi gli atteggiamenti concreti che devono rendere rassicuranti le statistiche. Grazie. Grazie.